C'era una volta un uomo di grande fede. Il suo nome era Dionigi. Venne da terre lontane, portando nel cuore una missione, portare luce dove c'era solo buio. Il suo destino lo condusse verso una città chiamata Parigi, un luogo freddo dominato dal silenzio degli idoli. Ma Dionigi non era solo. Al suo fianco c'erano due compagni, Rustico e Eleuterio. Con loro iniziò a parlare al cuore di quella gente, raccontando del vero Dio, dell'amore e della speranza. Le sue parole erano come semi sparsi su un terreno arido e poco a poco quei semi cominciarono a germogliare. Dionigi sapeva che la strada sarebbe stata dura. Ogni giorno si alzava con il sole e camminava tra la gente. Parlavano una lingua diversa, credevano in cose lontane, ma Dionigi non si scoraggiava. Lui predicava, parlava, pregava. Le sue mani benedicevano i malati, i poveri, e a volte accadeva qualcosa di straordinario. Le persone guarivano, le ferite si rimarginavano, il dolore spariva. Il popolo cominciava a credere, a seguire quell'uomo che parlava con così tanto amore. Ma questo non piaceva a tutti. Alcuni, coloro che adoravano ancora le vecchie statue, cominciarono a guardarlo con odio. Decisero che Dionigi doveva essere fermato. Una notte, mentre la città dormiva, lo presero. Con lui presero anche i suoi due fedeli compagni. Furono portati in un luogo oscuro, lontano dagli sguardi del popolo. Lì iniziarono i tormenti. Ma Dionigi non gridava, non si lamentava. Il suo cuore era pieno di pace, sapeva che stava facendo la volontà di Dio. Rustico e Eleuterio lo guardavano con occhi pieni di ammirazione. Anche loro erano pronti a dare la vita per quella fede che avevano nel cuore. Infine, fu presa una decisione. Non potevano più tollerare la presenza di Dionigi. Lo condussero su una collina, un luogo che sarebbe stato ricordato per sempre come il Monte del Martirio. E lì, con un colpo netto, la sua vita terrena finì. Ma la storia non si concluse in quel momento. Si dice che, dopo la decapitazione, Dionigi si alzò. Si, si alzò, con la testa tra le mani. I suoi passi erano lenti ma decisi e cominciò a camminare. Camminò per molti passi, senza fermarsi. Attraversò strade, campi e tutto intorno a lui c'era silenzio. Nessuno osava avvicinarsi. Dionigi avanzava, come spinto da una forza divina. Si fermò solo quando giunse in un luogo sacro. Lì posò la sua testa, consegnandola nelle mani di una donna di nome Catulla, che aveva già aperto il suo cuore alla fede. Fu lì che Dionigi trovò finalmente la pace. E quel luogo, dove il santo riposava, divenne un santuario, un simbolo di fede e speranza per tutti coloro che cercavano la luce. La strada che Dionigi percorse con la testa tra le mani prese il nome di strada dei martiri. E ancora oggi, ogni passo su quella via ricorda il coraggio e la fede di un uomo che non si arrese mai, neanche di fronte alla morte. E così, la leggenda di Dionigi continua a vivere nei cuori di chi crede nella forza dell'amore, della fede e nella luce che nessun buio può spegnere. Benvenuti a questo emozionante viaggio nel passato, in un'epoca in cui la fede cristiana lottava per radicarsi nelle terre delle Gallie. Oggi ci immergeremo nella storia di un uomo straordinario, un vescovo apostolico che portò il lume della fede nelle oscure lande di quel regno. Questo è il racconto di esse Dionisio di Parigi, un uomo di coraggio, sacrificio e miracoli. Nella Francia antica, l'oscurità aveva avvolto le menti e i cuori delle persone in un velo di idolatria. Ma Dio aveva in serbo un messaggero, un uomo di grande zelo e fede. Esse, Dionisio, con i suoi fedeli compagni, il santo prete rustico e il diacono Esse, Eleuterio, si avventurò nelle terre sconosciute delle Gallie, portando con sé la luce del Vangelo. La città di Parigi, un luogo dove la fede cristiana era ancora sconosciuta, si rivelò un terreno fertile per il ministero di Esse Dionisio. Ma la coltivazione di questa vigna incolta non fu priva di sfide. Sotto la guida della Divina Grazia, il Santo Vescovo annunciò coraggiosamente le verità della Santa Religione a quei miseri idolatri. E il Signore confermò la sua predicazione con potenti miracoli, aprendo i cuori di molti all'amore per il vero Dio. Con il crescente numero di fedeli convertiti, Esse Dionisio decise di edificare una chiesa, un luogo sacro dove i credenti potessero riunirsi per lodare Dio e celebrare i divini misteri. Questa chiesa divenne un faro di speranza nella città di Parigi, un simbolo tangibile della vittoria della fede sulla superstizione. Ma la luce di Dio non passò inosservata agli occhi degli idolatri. Furiosi per la conversione di molti dei loro seguaci, gli oppositori di Esse Dionisio lo arrestarono insieme ai Suoi fedeli discepoli. Sottoposti a terribili tormenti, i Santi subirono la prova finale del loro glorioso combattimento, la decapitazione. Eppure, anche in quel momento estremo, la loro fede rimase inamovibile. La storia di Esse Dionisio di Parigi è un'esemplare testimonianza di coraggio, devozione e sacrificio. Attraverso la sua vita e il suo martirio ci viene ricordato che la fede può illuminare anche le terre più oscure e che l'amore di Dio supera ogni avversità. Che l'esempio di Esse Dionisio di Parigi, continui a ispirare e a guidare coloro che cercano la luce della fede nelle loro vite. San Dionigi è un santo molto importante nella tradizione cristiana per diverse ragioni. In primo luogo, egli è venerato come un martire, colui che ha dato la propria vita per la fede. Il suo martirio rappresenta un esempio di dedizione e coraggio, mostrando il suo amore incondizionato per Dio e la sua disposizione a sacrificarsi per la verità. Inoltre, San Dionigi è considerato un modello di santità e di vita spirituale. È stato un vescovo che ha testimoniato la fede in un periodo in cui i cristiani erano perseguitati. La sua testimonianza incoraggia i credenti a rimanere saldi nella loro fede anche di fronte alle avversità e alle difficoltà. San Dionigi è stato anche un teologo e un mistico di grande importanza. È noto per le sue opere teologiche e per il suo contributo alla comprensione della fede. Il suo pensiero ha influenzato e continua ad influenzare il pensiero cristiano, in particolare nei settori della mistica e della spiritualità. Infine, San Dionigi è un intercessore potente presso Dio. Molti credenti si rivolgono a lui nelle loro preghiere, chiedendo il suo aiuto e la sua intercessione per le loro necessità spirituali e materiali. Si crede che egli possa intercedere presso Dio per ottenere grazie e benedizioni per coloro che lo invocano con fede. O Dio misericordioso, rivolgiamo a te la nostra preghiera, implorando la tua grazia e il tuo perdono. Concedi ai tuoi fedeli servitori, San Dionigi e i suoi compagni martiri, la corona della gloria eterna, poiché hanno combattuto con coraggio e si sono sacrificati per la tua causa. In mezzo alle sfide e alle avversità, essi hanno dimostrato una fede incommensurabile e un amore profondo per te, offrendo la loro vita come testimonianza del tuo amore infinito. Ora, nel regno celeste, essi godono della tua presenza e della tua gioia eterna. Ti preghiamo, o Dio, di accogliere le nostre suppliche attraverso l'intercessione di questi santi martiri. Concedici la grazia di seguire i loro esempi di devozione e coraggio, affinché possiamo camminare sulla via della santità e della rettitudine. Perdonaci, o Redentore del mondo, per i nostri fallimenti e peccati, poiché i nostri meriti, nulla possono valere di fronte alla tua giustizia perfetta. Concedici la tua misericordia e la tua compassione, affinché possiamo essere purificati e rinnovati nel tuo amore. O Dio, ascolta la nostra preghiera e guidaci lungo il cammino della vita, illuminati dalla fede e sostenuti dalla speranza. Concedici la forza di perseguire la santità e di amarti sopra ogni cosa. Possiamo così unirci un giorno a San Dionigi, ai suoi compagni martiri e a tutti i tuoi santi nella gloria eterna del tuo regno. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.